allora meno due punti il cane si rotola eccolo iron allora iron che vogliamo fare stiamo in posa bravo eccolo qua questo è iron allo sgambatoio di marcelli che cosa aspetta iron vediamo un po ecco alla rotatoria iron aspetta che arrivi qualcosa da rincorrere vediamo vediamo se arriva qualcosa che può interessare il cane eccoci qua ecco arriva un ciclista arriva un ciclista cosa succede il cane il cane il cane il cane eccolo corri 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 dove vai ciclista è qua ecco bravo torna indietro sì così no allora ciclista oggi andiamo giù guardalo iron c'è la rete in fondo ecco quindi vai piano eccolo che ritorna qua bravo così piano e lui corre e ritorna giù c'è un filo di sole il canetto si scalda vediamo un po quella è la padrona che controlla eccolo piano piano cosa hai visto un altro ciclista no non c'è un ciclista allora torniamo indietro dove vai iron dove vai piano giri giri eccolo qui si mette lì che aspetta davanti al rotatore che arriva qualcuno da rincorrere poi anzi ma oggi c'è anche il cappottino ecco cosa c'è cosa c'è cosa hai visto guarda premi tutti eccolo eccolo ce ne sono due due ciclisti da rincorrere lui dove è andato in fondo lo sgambatoio eccolo che torna indietro e cerca di prendere i ciclisti ma perché stai buonesto dai guarda come corre aereo sono passati i ciclisti sono andati via tu stai lì e corri avanti e via come un tonto bravo bravo sì bravo e adesso ecco ma c'è un altro una carovana una carovana di ciclisti piano c'è il buzzico e che miseria ma prima o poi lo travalti e dove va vediamo questo è stamattina eccolo come corre bravo piano ancora e abbaglia abbaglia ciclisti oggi senza cappottino ecco il buzzico l'hai travaltato sei stato bravo vedi sì sì c'è il ciclista cattivo e wow 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 wow